Adesso la seconda rubrica di giornata che è appunto Ascoltami. Allora salve a tutti e tutte, la signora Luciana di Pesaro ci pone questo quesito, siamo dei genitori adottivi, nostro figlio ha 9 anni e abbiamo compreso che qualcosa lo ha turbato e il suo atteggiamento nei nostri confronti da qualche tempo è cambiato, secondo lei è il caso e se sì come di affrontare il delicato tema dell'adozione? E' giusto dirglielo e come dirlo? Bene, fatta la doverosa premessa che andrebbe assolutamente guardato il turbamento di questo ragazzo, che cosa potrebbe averlo turbato, quindi assolutamente non possiamo dare una definizione così tanto precisa, qualche indicazione rispetto al dire o non dire dell'adozione ai bambini la possiamo fare. Io credo che la famiglia nasca in tantissimi modi, il modo più comunemente trovato è quello biologico del concepimento, ma non è l'unico. La famiglia è un incontro, un incontro di persone, appunto il più comune è quello del concepimento, ma poi ci sono famiglie nate con la procreazione medicalmente assistita, ci sono appunto le famiglie adottive, ci sono persone che nel corso della loro vita riconoscono un ruolo genitoriale in qualche amico, quindi la famiglia è un incontro, quindi sì assolutamente è più che normale, è più che consigliato raccontare le proprie origini ai bambini. Come farlo? Aspettando i loro tempi, di solito i bambini chiedono, fanno delle domande su come si viene al mondo, come si nasce, come nasce una famiglia. Un'indicazione è quella di presentare che le famiglie nascono in tantissimi modi, si possono usare linguaggi semplici a seconda dell'età del bambino, raccontando di un concepimento, quindi che esiste il semino e l'ovino di mamma e papà, oppure che esistono genitori che si recano in altri paesi per prendere con sé dei bambini che hanno avuto la sfortuna di avere dei genitori biologici che non hanno potuto occuparsi di lui o hanno avuto la sfortuna di crescere in un paese con delle guerre. Quindi raccontare ai bambini che la famiglia nasce in tantissimi modi e che tutti questi modi sono molto molto sani, molto molto normali, non c'è ne uno più funzionale dell'altro. Ovviamente il consiglio che do alla signora Luciana Di Pesaro è quello di farsi accompagnare con un consulto professionale, proprio perché questa risposta è molto generica. È sempre possibile cucire una risposta proprio sulla specificità della loro famiglia. Tanti auguri!